sabato 6 luglio buongiorno e buon fine settimana ben ritrovati puntuali come sempre la nostra rassegna stampa il nostro consueto appuntamento del mattino con le prime pagine andiamo a vedere cosa ci propongono i quotidiani ne dico la stamane quali sono gli argomenti principali temi caldi di oggi lo faremo come sempre dando un'occhiata ai titoli in primissimo piano cominciamo subito lo facciamo partendo dal quotidiano la sicilia questo uno dei titoli fuoco e acqua stromboli fra show e paura l'etna invece frena e viene riaperto l'aeroporto fontana rossa una nave cisterna invece della marina disseterà agrigento e gela dunque da una parte il fuoco dei due vulcani dallo stromboli all'etna dall'altra invece l'acqua per contrastare l'emergenza siccità la crisi idrica in questo caso nell'agrigentino vedete e gela altre notizie in prima pagina sul quotidiano la sicilia la spesa del 110 per cento sarà spalmata si parla chiaramente del super bonus da eurostat boccata d'ossigeno per i conti d'italia ora tocca al patto di stabilità sicilia nel turismo mille nuove imprese 7 mila occupati in più quindi buone notizie mentre a londra parte l'era starmer le pen invece rifiuta la trappola tensioni fra salvini e taiani cronaca da siracusa due studentesse americane stuprate fermati un 18enne e un 19enne e poi la branco di palermo parla la vittima mai detto che è stato bellissimo in taglio laterale inchiesta catania policlinico danni per un milione primi interrogatori e scena muta dal jeep e poi natoli non parla ma caltanissetta sta oltre due ore l'atto che lo inguaia chiaramente tutti gli approfondimenti all'interno del quotidiano la sicilia in taglio alto si parla anche di calcio europei spagna e francia volano in semifinale la germania invece eliminata i supplementari portogallo di cristiano ronaldo fuori ai calci di rigore giro delle città partendo da catania parla monsignor renna serve dice uno spirito comune e poi sempre a catania pendolari specialisti del furto d'auto a cicatena minaccia l'ex moglie arrestato un 31enne e poi a taormina il centro di cardiochirurgia pediatrica del mediterraneo prima la deroga poi la stabilizzazione lasciamo il quotidiano alla sicilia restiamo però nell'isola con la prima pagina del giornale di sicilia questo l'argomento di apertura cambia la mappa degli ospedali l'assessorato completa le linee guida per i manager stop ai reparti doppione riorganizzazione per fare fronte alle carenze di organico pronto soccorso anche nelle strutture private e a proposito di strutture sanitarie villa sofia in bilico la nomina di colletti potrebbe andare a breve in pensione e ancora sanità e mazzette partono pure gli accertamenti amministrativi emergenza siccità un milione e mezzo ai comuni per i rifornimenti prime misure al via l'acquisto di autobotti sarà un'estate caldissima e dunque vedete i comuni corrono ai ripari in questo caso con l'acquisto di autobotti cronaca siracusa violentate due americane scattano gli arresti si tratta di due giovanissimi un 18enne e un 19enne e poi l'eruzione dello stromboli allerta rossa limitazioni per i tour turistici ennesima aggressione a palermo stavolta alla zisa vedete è stato aggredito un rider calci e pugni da parte dei clienti passante inaugurata la fermata de gasperi un'attesa durata 11 anni binario in sotterranea opera di eccellenza parla il sindaco lagalla il sindaco di palermo ovviamente contribuirà a decongestionare il traffico ampio spazio agli europei di calcio vedete la spagna che esulta spagna e francia in semifinale eliminate rispettivamente la germania e il portogallo andiamo in taglio alto orban da putin ma per la pace nessun spiraglio visita e scontro nell'unione europea unione che non ha gradito questa azione da parte di orban e poi l'ergastolano in fuga compagna e figlio di bozzoli tornati in italia il festino di santa rosalia l'intervista all'architetto santoro che ricorda il suo carro del 1974 un galeone trionfale barocco lasciamo il giornale di sicilia proseguiamo la nostra rassegna stampa con la prima pagina della gazzetta del sud ovviamente l'edizione di messina l'edizione siciliana la sanità siciliana al bivio la regione delinea il nuovo progetto di rete ospedaliera no ai reparti doppioni pronto soccorso nelle cliniche private e poi la situazione di etna e stromboli in questo caso il focus proprio sullo stromboli chiesto vedete lo stato di emergenza nazionale questa la mossa della regione siciliana mentre per quanto riguarda l'etna al momento l'emergenza sembra essere rientrata e ha riaperto anche l'aeroporto di catania bozzoli in fuga ma da solo brescia la compagna e il figlio sono tornati a casa condannato all'ergastolo per aver assassinato lo zio e latitante dallo scorso lunedì lasciamo la gazzetta del sud restiamo ancora in sicilia andiamo a vedere la prima pagina dell'edizione di palermo del quotidiano la repubblica si parla proprio della città di palermo ed è una città violentata questo il titolo andiamo nel dettaglio altre aggressioni dopo il 17enne ridotto in fin di vita in via macheda un rider 50enne massacrato di botte alla zisa il centro della città ormai è un far west parla roberto alaimo i giovani guastatori sono branchi di vili contro i deboli la famiglia siciliana è una pentola a pressione dove cuociono gli ingredienti peggiori manca il senso dello stato queste le parole comprensibili chiaramente ma di grande rabbia da parte di roberto alaimo altre notizie le indagini natoli sceglie il silenzio davanti ai pm ed è ancora giallo sulle bobine mai trascritte altre notizie il caso della disabile umiliata al museo di siracusa arrivano le email di scuse da parte del direttore e poi lo scandalo i dieci punti contro la brucellosi ignorati da asp e zoo profilattico e infine il reportage da stromboli estate estrema sotto il vulcano ma iddu non fa paura è la natura iddu chiaramente è il vulcano stromboli lasciamo il quotidiano alla repubblica restiamo però su la repubblica ma con la prima pagina dell'edizione nazionale si parla di crisi in europa e di orban vedete che flerta con putin il capo del governo ungherese tre ore a colloquio al cremlino il leader russo incassa la visita ma non concede nulla sull'ucraina sconcerto tra i partner dell'unione europea e al quartier generale della nato da bruxelles critiche al viaggio senza mandato vox invece tradisce meloni e aderisce all'ultra destra dei patrioti proseguiamo con la nostra rassegna stampa da repubblica alla prima pagina del corriere della sera anche qui vedete l'argomento di apertura è lo stesso orban da putin l'ira dell'europa ci danneggia polemiche dopo la mossa del presidente di turno dell'unione europea anche la nato contesta l'incontro a mosca mentre vox lascia il partito dei conservatori e dei riformisti europei e va nel gruppo dei patrioti la cronaca alex lo sciamano il rituale colpito alla testa e ucciso il giallo del piave l'autopsia e la denuncia della famiglia mentre in inghilterra starmer ha già il governo ricostruiremo il paese in questa foto vedete appunto l'incontro con carlo terzo tori sotto shock aggiunge il corriere della sera andiamo avanti con la nostra rassegna stampa abbiamo ancora tante prime pagine da vedere insieme questa mattina questa ad esempio è la prima pagina del quotidiano la stampa anche qui la visita di orban da putin vedete l'ira di giorgia meloni le sfide di orban il premier ungherese omaggia putin e porta vox da sempre alleato con giorgia meloni nel gruppo dei patrioti ma sull'ucraina le posizioni restano distanti il cremlino no alla tregua gruppi europei scontro tra salvini e tagliani campo largo invece contro l'autonomia pd 5 stelle centristi depositano il quesito del referendum contro la riforma ovvero la riforma dell'autonomia andiamo avanti con la nostra rassegna vediamo cosa ci propone stamane in prima pagina il quotidiano il giornale una ricca prima pagina con tanti argomenti trattati ad esempio l'aeroporto di malpensa vedete intitolato a berlusconi questo l'annuncio di matteo salvini e poi a proposito dell'autonomia la cozzaglia rossa antiriforme si riunisce per bloccare l'autonomia depositato il quesito referendario e più tasse più immigrati parte l'era starmer svolta in gran bretagna e la premier sposta subito a sinistra la politica inglese e a proposito della politica inglese parla ignazio la russa il voto nel regno unito non paragonatelo all'italia ha dichiarato la russa e ancora ma questi laburisti sono agli antipodi del pd questa l'analisi poi con approfondimenti all'interno del giornale vox invece dice addio alla meloni e vacuo ai patrioti di orban europa anche wilders si aggrega in questo caso abbiamo visto prima l'ira da parte di giorgia meloni dalla giornale alla prima pagina del fatto quotidiano che torna invece a occuparsi di chico forti meloni sta zitta ma fratelli d'italia è in imbarazzo dopo le fanfare opposizione all'attacco il garante accerteremo torni in america anche il sindacato polizia penitenziaria denuncia favoritismi a chico forti dopo il caso del mandato contro travaglio lucarelli questo l'argomento vedete principale stamane sul fatto quotidiano andiamo avanti vediamo invece la prima pagina del messaggero europa la svolta nella centrodestra questo il titolo europarlamento gli spagnoli di vox lasciano i conservatori di meloni per i patrioti sovranisti la lega parla di un segnale importantissimo e ora aspetta le penna il chiarimento tra la premier e il vice premier matteo salvini orban a colloquio da putin l'irritazione di bruxelles vertice di mosca nessun progresso sulla tregua in ucraina e poi doppia notizia di cronaca la perseguitava ma manu temeva di denunciarlo i familiari della donna uccisa in strada a roma aveva paura diceva che sarebbe stato peggio e il giallo di alex è stato colpito in testa il barman morto nel piave dopo i riti sciamanici escluso dunque il suicidio esclusa questa ipotesi dal messaggero alla prima pagina di libero specie protette sinistra in estinzione a ruola pure il vvf nasce la coalizione per il referendum contro autonomia e premierato elli imbarca tutti partigiani animalisti grillini comunisti e renziani e poi in taglio centrale le sculacciate di le pen a mbappé francesi stufi delle elezioni di morale dei milionari viziati queste le parole di marine le pen dopo le parole le dichiarazioni del campione della francia chiliam mbappé parliamo adesso di sport andiamo a vedere le prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi italiani partiamo dalla gazzetta dello sport tennis e calcio in primo piano partiamo dal tennis boom boom sinner questo è il titolo wimbledon e agli ottavi avanti pure la paolini vittoria facile per il numero uno al mondo yannick sinner che dunque va avanti nel torneo forse più prestigioso del tennis calcio mercato juve anche ebram giuntoli a caccia del vice vlaovic e dunque potrebbe essere l'attuale centravanti della roma la soluzione giusta per tiago motta dalla gazzetta al corriere dello sport europei di calcio la germania accusa l'arbitro taylor euro 2024 spagna e francia in semifinale germania eliminata ma sull'uno a uno l'arbitro ha negato ai tedeschi un rigore per una mani identico a quello di similia roma portogallo eliminato ai calci di rigore e poi la mercato vuole il napoli si tratta di buongiorno chi ha scelto il progetto di conte e de laurentis è pronto a chiudere subito con il forte difensore noi invece chiudiamo con tutto sport anche qui si parla vedete di tennis jannic e jasmine martelli d'italia sinner e paolini devastanti wimbledon sempre più azzurro complimenti e in bocca al lupo dunque ai campionissimi italiani del tennis sulle tutto per tiago mattias al lavoro in argentina intervista al preparatore si presenterà al top per conquistare tiago motta e la juventus ci fermiamo qui chiudiamo questa rassegna stampa odierna abbiamo fatto e concluso il giro delle prime pagine ma l'informazione non si ferma sui nostri canali partiamo dunque a breve tutte le nostre edizioni di spazio notizia per aggiornarvi lungo questo sabato e allora anche oggi come sempre vi invitiamo a rimanere con noi a dopo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti